ora abbiamo rimasto Piero Albizzati, Milano 22, ha partecipato alla 24esima Biennale Città di Milano, mostra del Po, mostra della Resistenza, premiato al concorso Lissone e Bice Bugatti, il primo premio al concorso Esinolario, comune di Turbigo e Barberino di Mugiallo, personale a Milano, alla famiglia Meneghina, Galleria Bolzani, Biblioteca Comunale e Galleria Il Canocchiale, interesse di restauro, quotazione quadra, 100.000 per un 30x40, 150.000 per un 50x60, 300.000 per un 70x80, 350.000 per un 70x100, Acquarelli, dai 30 alle 50.000, Albizzati, Pietro, Fiorio, Mario Alborali, Poenago, 1.125, votazione quadra, 30.000 per un 35x50, 50.000 per un 50x70, 80.000 per un 70x100, Silvio Alchini, Fiera di Premiera, 1936, dipinto dal 58, ha frequentato all'Accademia e Scuola di Nuda a Venezia, quotazione quadra, 100.000 per un 40x50, 150.000 per un 50x70, 200.000 per un 60x80, disegni, 25x30.000, litografie, 10x20.000, psicografie, dai 10 ai 20.000 anche qui, in permanenza opera alla Galleria La Fontana di Venezia. Alessandria, dovrebbe essere un nome d'arte, Alessandria, cosa vuol dire? Un nome d'arte? Torino, tipo Picasso, così. Torino, 1.125. Sua opera si trovano nel museo d'arte modelli di Torino e il gabinetto areale delle stampe di Bruxelles. Personale in Italia, ad Amsterdam nel 64, Rochester, New York nel 64, San Diego, California nel 65, Parigi nel 65, Amsterdam nel 66. Nel 67 è stato invitato al Gran Premio Varese Arte, nel 44 fondò la soffitta macabra, Cenacolo di giovani artisti torinesi. Quotazione del quadro, 300.000, 24x30, olio su tavola, 500.000, 30x50, olio su tavola, 400.000, 50x70, olio su Amazonite, dai 150 ai 350.000, periodo le bambole. Alessandria, Nicorrada, Livoro nel 1908, contazione del quadro, 50.000 per un 40x50, 120.000 per un 50x70, 180.000 per un 70x80. Alessandria era nato, Firenze per un ucce dal 19, ha partecipato alle Biennale e Quadrenale, il Premio Fiorino e la Segna Pisana d'arte figurative. Ho preoccupato all'Istituto d'Arte di Firenze, dove ho attenuto alle seguenti personali, 57, Galleria L'Indiano, 60, Galleria La Struzzina, 163, Galleria La Vigna Nuova, 64, Galleria Accademia, 66, Galleria Il Vaglio, Quotazione quadro, 150.000, 40x50, 200.000, 50x70, 250.000, 60x80, 300.000, 70x100, disegno, dai 20 ai 40.000, scusate, a quei forti, 40.000, 20 esemplari. Nudo di Alessandrini, Renato, 300.000, bello questo. Poi, Corrado Alessandrini, lavoro e riposo, 60.000, Angela Alfano, Roma, 1940, sua opera figura in collezione di Venezia, Roma, Udine, Cudia, Cosenza, Quotazione quadro, 80.000, 50x70, 180.000, 70x100, Alfano Angelo, persennancio e anonimo, 70.000, Capra, Alfia, Ferrara, ha percorso la scuola data di Ferrara, premiato a Napoli nel 66, Quotazione quadro, 80.000, 40x50, 100.000, 50x70, Alfia, Riattina, Milano, un pittore autodidatta, inizia come aiuto al decoratore, nel 28th apro un periodo di intese e ricerche, nell'ambito del paesaggio, che il pittore svolge tra i colli e le campagne dell'Aprianza, espone però, prima volta nel 32, subito tirandosi l'interesse della critica e del pubblico. Tra il 40 e il 45, è presente su invito al premio Bergamo, alla codrennale, alla biennale di Venezia nel 38, 42 e 44 con una parete, ottene premio, oltre una cinquantina, tra cui, medaglia a donne nel 37, alla mostra anniversaria di Parigi, premio Bergamo, l'ambito, primo premio, piange alla Francesca a Firenze, premio, annunzio e maternità mangiagali nel 67, premio nazionale città d'impero nel 63. Anche recentemente ha ottenuto notevoli riconoscimenti ufficiali, quale è l'invito alla mostra del rinnovamento dell'arte moderna, dal 30 al 45, scusate, con i massimi esponenti, da Scipione a Gutuso, a Fravedova, ed inoltre è presente, ed inoltre, scusate, è presente con un gruppo di opere alla Green Gallery di New York. Nel 70, vasta rassegna delle sue opere organizzate dal Comune di Milano, quotazione 300.000, 50 per 35, sempre a quadra, 600.000, 40 per 50, 800.000, siamo piuttosto alche come quotazione, quindi 60 per 80, 1.600.000, 120 per 140, 3.000.000, periodo precorrente, disegni dai 100 alle 200.000, litografie, sulle 50.000, 100 esemplari, in permanenza a Milano, la Galleria Vinciana, la Galleria del Castello a Trento, Greer Gallery di New York, studio F22 di Palazzo A, Attila Alfiere, Simona, Carboncina, Alfiere Attila, La Bruna, 2.800.000, Attila Alfiere, Fabrica, meno 100 da ritrattare, 2.800.000, Attila Alfiere, Attila Alfiere, Attila Alfiere, Natura Mata, collezione Vincenzi, Gara Velasca, 650.000, Attila Alfiere, paesaggio collezione malagnini saranno 1.500.000 battite al fiero l'addolescente un milione e mezzo siamo a pagina 25 alla prossima